era particolare, poi invece al secondo giro di questa cosa tremenda con la macchina di Fondritz che è autocultata contro una rete metallica alla quale purtroppo erano anche la parte di tante persone. Wolfgang Fondritz era la principale vittima del primo grave incidente avvenuto a Monza nel dopoguerra, una catastrofe in cui oltre al pilota perdono la vita 15 spettatori, era il 1961 e quel gran premio verrà ricordato più per l'atroce episodio che per la conquista del titolo da parte di Filippo. Veramente è un peccato, un disastro che hai finito la stagione così, ma le corse sono sempre pericolose, succede, è stata una cosa di molto valore, non in caso. Fondritz la prensione.